Cos'è per me la felicità? Svolgimento. Io delle volte mi sento solo e disperato, ma altre volte sento proprio che voglio essere felice. E non ho detto contento, allegro o sereno. Ho proprio detto felice. Ciao! Ciao Jessica! Secondo me la felicità è come il calcio brasiliano. I giocatori si lanciano in attacco, scartano gli avversari con numeri pazzeschi e alla fine fanno gol. Certo, attaccando il brasiliano può anche fare qualche errore, ma se uno vuole essere felice deve correre anche dei rischi. Chi non risica non rosica. Ma tu ci credi veramente a questa cosa della felicità? È la brutta. E poi che cazzo leggi le mie cose? Tanto mi seguono anche stanno. Ma perché devi dire così? T'aiuto io. Tu a scuola fai cagare. Io ci provo a essere felice. Costi quello che costi. Banana bella sta maglia. E la presti che devo fare una figura di merda? Ma tu mi vuoi anche un po' di bene? Di che cosa tratta il romanzo? Affronta... Nevi come il significato dell'amore e della vicinzia. Nevi... Ti diverti a farli soffrire i ragazzi? Un po' sì. Ehi Francesca, siamo due persone intelligenti. Io sono intelligente. Certo, mica si può essere felice di tutto. Però forse basta esserlo di qualcosa. Che poi quel qualcosa illumina tutto il resto. E siamo saluti. E siamo saluti. Grazie.